Il 50esimo anniversario Il 50esimo anniversario BBS E vai E vai E vai E' vero, 2020 si diffonde il covid, un bordello Space Invaders Bella Bella questa 4GT Space Invaders Bella raga, ciao a tutti Tutto il mondo Lallo il bronzo Come state? Allora dobbiamo fare Una sardegnetta Così Ciao, sound alert E' Loki Ciao amico mio Buonasera, buonasera Buonasera doctor Allora Allora Non facessi la live stasera Oh No no la faccio la faccio amico mio E' solo che stavo Vedendo Il film di Aldo Giovanni Giacomo Io odio l'estate Troppo bello E mi sono perso via un attimo Infatti quando ho visto Che era già le nuove qualcosa Oh 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 La live Devo Devo muovermi Allora Allora Un sacco di cose Voglio fare stasera Mai correre Con il cellulare in mano Ragazzi Questa è una cosa Che non dovete fare Ciao streamelmans Signor Gran Turismo 7 Che titolozzo Ragazzi Stasera Cosa facciamo Stasera Possiamo fare Ciò che vogliamo Amico mio Per ciò che si vuole Ciao amici Si può fare anche L'online Sempre se riusciamo Perché sai che Il problema mio E' tuo E' che l'online Non funziona Io adesso voglio provare 700.000 euro qua Voglio provare a far la patente Visto che abbiamo perso Quasi un'ora Per fare la Ecco Giusto così Abbiamo perso quasi un'ora Per fare la La prova Io non andrei dentro A far prova ancora Anche se secondo me Riuscivo a abbassarlo di un po' Ok Ok Sì Rainbow E' tanta brutta roba per me Perché non riesco Il livello tipo 300 che sono adesso Non so 200 150 Quello che è E' stato fatto tutto dai miei figli Non c'entro niente io Io proprio Entro Muoio E devo aspettare la fine del gioco Mi Mi turba Ciao amici E' amica di Twitch Benvenuti Oh scusami Forgiti Non volevo Sì infatti se vedi bene Worldzone lo porta solo quando c'è Morris Allora Eeeh Non ho il tempo Amico mio di allenarmi Non ho tempo Non ho proprio il tempo fisico Poi calcola Adesso a fine mese Eeeh Ma la smettete di venire in mia dose Allora non sto neanche accendendo xbox Per fare tutte le Le day one edition C'era sniper elite C'erano altri due giochi messi sul pass Praticamente Sto pagando il pass E non riesco neanche a giocare E tu calcola che Si potrebbe fare una sera al biliardo Quello si Sai che pure pool Dovrebbe essere gratuito Credo Io l'avevo comprato Però credo che Dovrebbe essere andato nei free to play E sinceramente una seratina Al pool Me la farei C'è uscito tra l'altro Uno nuovo Se ti può interessare L'occhi Che ti piace Il biliardo Che è bellissimo Che è Pool Pool nation Costa 7 euro Una stupidata C'è l'online È fatto benissimo Graficamente spacca L'ho portato su youtube Ed è veramente bello Io per rilassarmi un po' Di solito faccio Quei giochi qua Uuuuh Excuse me Invece una volta Giocavo sempre con mio figlio Vittorio a scacchi Invece adesso è diventato Troppo bravo Ed è impraticabile Proprio giocare Calcola amico mio Che io quando giocavo Nel squadrone della morte nera Il mio clan Che poi eravamo arrivati In tantissimi Dopo ho diventato Gecko Dopo morto Giocavamo tutti i giorni A Call of Duty Modern Warfare Quindi l'1 Con la Playstation 3 Eravamo delle bestie Testimone Il mio amico Max 60-70 uccisioni a partita Minimo erano le mie Mi chiamavano Il generale Aspetta Cosa che dice il generale Farming Simulator È fighissimo Allora Farming Simulator Ha un piccolo problema È talmente di nicchia Che non riesce a farti Ciao Giulie Allora Farming Simulator È talmente di nicchia Che non lo guarda nessuno E chi lo guarda Ha già la sua Diciamo La sua clientela Quindi Io devo capire solamente Che direzione Prendere col canale Se fare cose Che piacciono A me O cose che Piacciono alla gente Perché Non Non credo Che Tra un po' Vieni Mi buca le gomme Ok Eh lo so Lo so Io prima giocavo Ciao amici e amiche di Twitch Giocavo a tutto 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 Il day one Serate intere A dei giochi Poi altri Adesso Come tu vedi Sono tre o quattro I giochi Che sto portando Sul canale Perché voglio crescere Voglio farmi la prima fanbase Ah Giulia Grandissima E portare giochi troppo strani Tipo Evil Dead Che secondo me È bellissimo Hanno fatto veramente Un bel gioco Come ieri sera Non c'era nessuno È anche vero Che ieri sera Sono partito alle 10 Magari Tanti Non Erano già letto O comunque Erano in giro E vabbè Però Non è seguito Farming è un po' lo stesso discorso Anche il solo Ciao amici e amiche di Twitch Grandissimi Stiamo chiacchierando un po' con l'amico Loki Anche il solo Oh cambiamo la marcia Ah bella Marchitto Non ho neanche cambiato Ciao Stream Elements Ah Giulia Ciao Stream Elements Anche solo Loki Formula 1 invece va Formula 1 arriva a fine mese Con lo nuovo E sinceramente Formula 1 funziona tantissimo Mi piace tanto Spero che sia implementato il true form Porca loca Ha fatto Ha fatto un dritto Ha fatto un dritto Un drift Un drift Ho sbagliato Non ho messo il consumo Durante Ma stasera finiamo anche E si festeggia qualcosa Festeggerà qualcosa Dove 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 Cosa dimmi Ciao ragazzi Vittici Amici Che festeggiamo Dai dai che voglio festeggiare Champagne No spumante Perché io preferisco Le cose italiane Che ha quelle Estere Spumantino Seguite il canale Oh grazie Grazie Bella ragazzi E ragazze Benvenuti Seratina Oh mio dio Mi sto deconcentrando Seratina Siamo in Sardegna Grande Giulio Sì signore Siamo in Sardegna Nella bellissima Sardegna La prima McLaren Motorizzata BMW Del design Ci facciamo Questi 700.000 Così Allora Allora Prima Siamo arrivati 30 millesimi A mondo Tra l'altro Stava andando Molto bene In giri Uno dietro L'altro Oh Marco e Carla Grazie Olli Olli è là Col caldo Ragazzi Olli non viene più Qui dove siamo noi Viene che poverina Caldo Va vicino al ventilatore Anche se Non fa caldissimo Stasera Però Olli sta sempre Un po' Sta sempre Un po' Distante Eh sì Eh sì Giulio Fa caldo Anche per i cagnolini Allora Da noi Ti giuro Non fa Tanto caldo Perché Ho acceso Al minimo Il ventilatore Oggi Però Fa caldo Quindi Noi siamo vicino Alle montagne Quindi Arriva giù Un po' D'arietta Fresca Dai monti No Ci abbiamo Il monte rosa Il monte bianco Ci abbiamo Tutte le valli Val Vigezzo Qua vicino Insomma C'è Siamo dentro Un canalone Noi siamo bassi E ci sono le montagne alte No Quindi è tipo Un canalone D'aria Infatti a volte Viene un'aria Pazzesca E si sta Veramente bene A volte Però siamo In pianura Quindi Pianura padana E ragazzi È tutto fermo Infatti se vedete In televisione Ogni tanto Le cappe Di smog Milano Siamo tutti dentro Perché però È pianura Poi c'è tanta Agricoltura Oh vedi Vedi Eh sì Però quando fa caldo Fa caldo lo stesso Ciao amici amiche di Twitch Benvenuti e benvenute Al canale Di Marco Drums Corriamo un po' Adesso andiamo Adesso andiamo a prenderci Settecento Cinqua Settecento Venticinquemila E cinquecento Soldini Sette due Sette E cinquecento Mi sembra Come vai? Ah mi si stanno Avevo capito Non si stanno Scusa Scusa Eh sì Pian pianino Man mano che scrivi Dovete scrivere ragazzi Per avere un botto Di miticoine Un botto Di miticoine Amici Che bella Che è sta macchina Molto molto bella Molto veloce Consuma pochissimo Vai di benzina Due ore e venti al litro Fanne poca Io i giochi di macchine Sinceramente Sì signora Giochi di macchine La visuale da dentro È una figata A volte però Non si riesce a correre Forte Anche in assetto Corra Corsa Competizione Che è stato fatto per PlayStation 5 Tra l'altro Correvo Sempre da dentro Perché è la visuale Quella dove Dove corrono Veramente i piloti Quindi Effettivamente La visuale dei piloti È quella da dentro Non è che possono decidere Di guidare dal muso Della macchina O Questa visuale qui Che è bella Che vedi la strada O dal muso Però Diciamo che Questa qua dal muso È quella più Che si riesce A vedere Meglio Andare più forte Per me Poi Magari Non è Oh Grande Marco Drums Ciao amici Proviamo un po' Di cose Stasera facciamo Una bella sardinietta Andiamo a comprare La 4GT Allora Prima Farmava anche Mia moglie Carla E Leonardo Mio figlio Di giorno E avevo un sacco Di soldi Adesso Per vari impegni Il lavoro La scuola Hanno cambiato la pista Devono fare questa qui Non mi stanno farmando più Infatti Come vedete Non ho tantissimi soldi Sono sempre un po' Impiccato anche con i soldi E Le macchine le ho comprate quasi tutte Me ne mancano 22 Se non sbaglio Prendendo la 4GT Stasera O domani Perché vediamo un attimo Se riusciamo a prendere stasera O domani Sono solo le 9 e mezza Però Dovrei fare 2-3 Sardegna Come minimo Per prenderla subito Invece Volevo fare anche Magari la prova Della patente Qualche prova sul circuito Eh non lo so Non lo so Vediamo Perché questa pista Carla E questa macchina Non gli piace Quindi quando Carla Non gli piace una pista E una macchina È dura Ah Dobbiamo fare anche Il biglietto Il Il caffè Hanno fatto 3 nuove Eh sì L'altra gli piaceva E lo faceva volentieri Quando non gli piace Non Beh tutti hanno Delle macchine preferite Ciao amici Di Twitch Grandissimi E amiche Grandi 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 Benvenuti Buona serata a tutti Buon sabato Siamo a Sardegna Andiamo a prenderci Un po' di soldini Gara con la McLaren BMW Superiamo Questa Uh quasi 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 gli andavo addosso Raga Miticoni ragazzi Uè Lucas Grande Vai a ammazzare il Predator Allora ragazzi Dovete capire che Lucas Grandissimo Lucas Mio amico Lui È un grande Impredator Se vi piace il gioco Predator Iscrivetevi Iscrivetevi Al suo canale Andate a vederlo Perché fa delle Mega Mega Giocate A Predator Che è un bel gioco Tra l'altro E sono stati aggiunti Anche nuovi Contenuti Eh raga Se vi interessa Comunque Se volete vedere un po' Com'è Andate a trovare Il mio amico Lucas Che viene sempre dentro A salutarci Grandissimo Tra l'altro Ha pure preso La webcam Quindi Le sue live Adesso sono diventate Di qualità Ho toccato dentro La bandiera Del tipo Sicuramente Si è preso Una legnata Su le mani Anche questo Wow Ah 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 Lo sapevo Ti conosco Mico Lucas E conosco Anche Il tuo amore Che hai Per le Volkswagen Golf E infatti Ti avevo Dedicato Due Volkswagen Golf Comprate Per te Proprio Allora oggi Luca Ho fatto Dei bei Record Su Lo sport Che è la disciplina Dell'online Collegare E E Diciamo che Carla e Marco Bella Grande Grande Carla ritorna domani Ragazzi Quindi Tranquilli Che poi Tornerà a giocare Sicuramente domani Perché si spara Un po' di Di macchine Reali Anche se Con la nostra Macchina Non è che Ci si stanca Tanto Ma Non credo Che giocherà Domani Si tornerà Operativi In settimana In settimana Poi Con Loki Con Morris Vogliamo Portare Anche Roller Champions È stata divertente La serata Che abbiamo fatto A Roller Champion C'era anche Loki C'era anche Chi Beh se volete entrare A Roller Champion Ragazzi basta che lo scaricate Gratuito Lo trovate sullo store E si facciamo Rotazione Se siamo in tanti Fa una partita a testa Ok raga Quindi se volete Scaricarvi Roller Champion E giocare insieme a me E andare in live Scaricatelo E ci mettiamo d'accordo Vi raccomando Se non siete iscritti Iscrivetevi al mio canale Dai che Arriviamo A 570 Follower Raga Dai 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 Bevi Vedo un bevi Tre minuti fa Della Giulia Dopo bevo Dopo bevo Non c'ho da bere Ah si In realtà ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho lì Ce l'ho lì E bevo Adesso Potete capire Amici Se siete arrivati adesso Che Marco Drums Sono i miti coin Sono la nuova moneta Del futuro Potete usarli Per Movimentare La chat Farmi Bere Un goccio d'acqua Frizzantella O farmi Pettinare Con Il Mitico Pettine verde Ragazzi Perché bisogna Sempre Sempre Stare Stare Pettinati Sempre Pettinati Dai abbiamo Quasi finito La gara Grande Giuri Questi sono Tutti i link Amici miei Del merchandising Di youtube E di facebook Eh no 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 di youtube Di twitch Perché quelli di facebook Instagram Twitter Non ci sono Poi avevo fatto anche I qr Ragazzi I qr code Per iscrivervi al canale Così Mi faceva portare Velocemente Senza cercare il canale Però Posso metterlo Nell'altra versione Con ubs Ma ubs Non mi sta funzionando Giusto Quindi sono ritornato Sulla play E' una cosa incredibile Amici Che Con 500 euro Di playstation 5 Faccia andare Un gioco in 4k HDR Adesso anche Vrr Con i controller Controller Quindi Del volante Controller Live attiva Video Webcam Party Chat Tutto in tempo reale Con 500 euro Per fare Soltanto La condivisione Di un video Quindi non sta Elaborando il computer Il gioco Solo Un video in entrata Mettere due grafiche Stupide Una webcam E un audio Un computer Da 1200 euro Non ce la fa Fate voi Che Tirate voi Le conclusioni Perché le mie Sono Brutte Come tipo di Oggi Di conclusione Verso il mondo PC Stavo Chiaramente Con 4000 euro Faglia di Dio Grazie al cavolino Di Bruxelles Perché con 4000 euro Sono 8000 euro Sono 8000 euro Sono 8000 euro Col sole eh sì, otto console stiamo quasi arrivando alla conclusione della gara che casino quella brutta camaro sono tutti doppiati eh le bandiere sono vostre ciao amici e amiche come state? non sento più l'occhi grazie Joly comunque ce n'è parecchie di giri da fare con la Sardegna per 700.000 euro non è uno scherzo ciao ciao mamma buonanotte va che l'ho toccato dentro scusami kaburun ma levati adesso io proprio vedere a fare un due tre volte la prova della pista se riusciamo dell'ultima patente perché l'ultima patente mi sta facendo dannare ragazzi lo fate tutte a oro ma l'ultima patente è davvero è davvero triste è davvero triste perché non si può sbagliare nulla comunque se non vai forte non arrivi a fare l'oro e per andare forte bisogna rischiare rischiare vuol dire tipo qua adesso vedete ho rischiato ho rischiato ho rischiato ho rischiato non è vero adesso non ho rischiato adesso ho sbagliato faccio vedere un po' anche da fuori la mitica BMW dai che siamo all'ultimo giro ultimo giro di Sardegna vediamola da dentro io e la Mazda ci diamo ci diamo paga questa macchina come voi vedete tira giù la manina destra lui perché è vecchia e quindi va a mettere la marcia io ho anche il cambio raga cambio proprio cambio oltre a quello sequenziale ciao Sardegna amico mio che bello sei arrivato l'amico grazie grazie giù lì allora Sardegna ho un sacco di robe da fare ci facciamo un online ragazzi è arrivato l'amico Sardegna Marco che è il livreatore ufficiale di Marco Drums che è in scena fa di quelle livree assurde dai Loki grandissimo Loki dai che ci corre facciamo un bel online raghi dai che andiamo a vincere ciao Willis grandissimo grandissimo ciao Willis mitico lord ciao ragazzi bella lì e sulle note di volare Marco Drums sulla pista con 795 mila euro ancora non abbiamo soldi per comprare la 4GT non ce l'abbiamo ancora i soldi ragazzi mamma mia che circuito guardate che belle le livree nuove di Marco Drums sulla McLaren BMW McLaren BMW GR1 bellissima bellissima ok facciamo il torneo settimana e arrivo subito faccio il torneo settimanale ok ok guys si tanto faccio spero vero fare qualcos'altro che gara è questa qua ah quella che devo fare adesso ok arrivo si si vai pure con calma perché lui deve fare la gara settimanale e io devo fare questa qua allora aspetta si si da corsa morbide 20 giri ah no 8 giri no no mettiamo le mettiamo le dure da corsa dure ok ciao amici GR1 prototipi 8 giri con la Mazda con la Mazda LM55 VGT GR1 raga mettiamo consumo di benzina massimo allora da dentro la Mazda è un casino ha capito qual'è la pista ho capito qual'è mamma mia che schifio di pista mi voglio veramente far fare 8 giri di questa pista c'è l'asfalto sdrucciolevole 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 adesso me la devo ricordare perché ecco eccola là me la devo ricordare non me la ricordo più tanto bene l'ho fatta un paio di volte ma è una di quelle piste che mi sta un po' sulle scatoline adesso ho messo la pista almeno mi ricorda vai anche perché ragazzi dovete capire che ogni pista che fate eh Nello certo Nello adesso faccio questa provo un attimo il e e Sharder e Loki e io e te oh la 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 bella Nello Sharderino poi fa la lobby assoluti di lobby diciamo che questa questa pista qua per ste gr1 non è il top eh mi devo riprendere dal giro oh madonna va che roba chi se la ricorda sta sta pista adesso dovrebbe rientrare nel giro di quell'altra perché cambia soltanto la parte finale penso eh strada sdruccelevole sdruccelevole Giulie bella lì raga allora Sharderino fai tu la lobby intanto entra Nello poi quando finisce la gara settimanale Loki e finisco io questo e arrivo per fortuna che almeno un rettilino c'è ed è anche bello lunghetto diciamo che anche le altre sono belle toste come macchinette non sono proprio dei catorci a regola non è ancora finito un giro scusami scusami basta che non vai sullo sterrato che non sono un tasa erba mamma mia arrivano le zanzare raga la cosa più assurda non è caldo ma è le zanzare per me e quanto dura sto giro e fatemi capire 77 minuti dovrebbe essere l'inizio vediamo mamma mia tre minuti e mezzo e ma anche loro anche loro mi vengono adosso che mi uccide il caldo ma io le zanzare madonna anche gli altri sono lati contro il muro però devo anche vedere alla fine ah caspiterina qui sono belle toste le curve all'inizio problema di ste macchine che viaggiano davvero tanto raga e che viaggiano davvero tanto quindi sono su in un attimo a velocità folli e anche frenare ci vuole tempo che legnate che dà il mio fischiettare una canzone che non si può cantare per copyright alla mitica Giulie 1.50 4 secondi meno adesso bisogna frenare 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 accelerare bella eh sì eh sì magari questo è il pezzo dritto devo ricordarmelo e qui stanno viaggiando ragazzi io sono al secondo giro ho beccato solo il tredicesimo se non mi do una mossa caspita ancora mi ha fregato sta curva sono belli veloci tra l'altro sì sì c'è nello lord grande lord lord quanto salutato lord sì ciao lord caspita quando riprendo io 9 secondi al 12 boh grazie grazie lord grazie mille avere un lord dentro tra i miei iscritti fa solo che piacere amico mia lord guarda qua che frenata che devo fare dai ma gira cioè non è che questa macchina non è che questa macchina va piano cioè fammi capire si bello ma porca dai niente qua questa è andata torca miseria sì ma dovrebbe andare questa macchina ma faccio non prenderli incredibile c'è ma vanno anche grazie ragazzi nuovi sì 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 ma buon Natale ti da tanti doni nel nel cuore quando cominciano a fare così anche le gare ragazzi porca miseria diciamo quando li prendo cioè io vado 280 l'ora loro quanto vanno primo secondo io le curve a parte qualcuno bam bam cioè Willis non riesco a capire non riesco a capire quando li prendo questi qua poi non frena sta macchina vinci Loki l'altra ho vinta con questa bere ah dici che è lenta cioè io non lo so non non ci caviamo un ragno dal buco eppure quell'altra che ho fatto l'ho fatto con questo grande Loki grande Willis eppure l'ho fatta con questa un'auto leggendaria allora prima di tutto 950 o inferiore mille e tre cavalli qual è che ce l'ho tutte io vabbè le leggendari non proprio tutte qual è che stai dicendo qual è qual è quella non andava niente male non dirmi la Tomahawk un po' fortarellino staccata si 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 hai ragione la Mazda con la livrea la Mazda con la livrea arancione la Mazda con la livrea arancione è perché sono impiccato con quella macchina lì Willis questa la ibrida GR1 eh quello hai ragione eh sì tu dici eh tu dici non è quella non è quella e qual è che è ma io ce l'avevo l'hai vista adesso questa frena questa frena questa frena raga questa frena però questa sta frenando vediamo un attimo se riusciamo il frenatore dimmelo a 300 se frena eh sì effettivamente a 150 frenano tutte eh Willis beh insomma frena un cazzo ah mio Dio col cesso lì davvero oh signor se posso non usarla vediamo se questa va questa sta viaggiando comunque li sto prendendo butta giù i piedi è vero allora questa Loki sta frenando però tra l'altro dovrei comprare anche la la nuova Toyota quella del 2022 avete visto che è uscita fuori con l'ultimo aggiornamento 3 milioni perché prima volevo comprare la telepatia caspita vabbè frenare frena però eh raga caspita qui è quasi quasi come Formula 1 eh il cambio marcia sì sì l'ho usato quello rottame lì l'ho usato l'ho usato non mi sono proprio divertito ti dico la verità ah c'è la Tomahawk che ci corre contro beh questa è un chiodo raga guarda va 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 qui con quell'altro uscivo fuori no con la Mazza è improponibile guarda 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 e oh questo qua mi sta un po' sul cavolo eh John Marco e non riesco a leggere raga sapete quando ci sono le piste le macchine veloci un pelo di fatica a leggervi la faccio infatti c'è sempre Carla che mi dà una mano dai dai questi me li mangio dai che arrivo su su svillo e beh come io oggi grande ciao ciao guarda su svillo su svillo come lo mangiamo lo svernicciamo raga gli svernicciamo la libreria a quest'Audi così impara eccola qui quella che dici tu eh Loki questa ah no questa è l'altra questa è l'altra questa è la Carsonic quella della c'era la Mazda e la Nissan la R92 e la Cipidle 92 anche quella è questa tipologia di auto no ho sbagliato ho sbagliato raga questa me la sono giocata malissimo devo rifare tutto con la curva lì sì devo rifare tutto per fortuna che è Gallo te lo conosco come non l'hai seguito quello Willis Giulio è fortissimo Willis no 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 tanto la Playstation 5 non te la compro quindi puoi anche evitare riesco a leggere le cavolate ah 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 le cavolate le leggo raga oh amici miei benvenuti Marco Drums sabato pomeriggio contro i così no no forte forte Willis è un grande hai fatto di quelle giocate pazzesche quando vengo a vederti a Fortnite che sei troppo forte quella volta la del carro armato me la ricordo ancora è stata la mitica ah 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 guarda qui destra sinistra come una libellula ragazzi con questa era una Toyota questa qui o ho preso l'Audi non mi ricordo neanche che macchina ho preso la playstation 5 la playstation 5 ce l'ha Marco Drums e venite a vedere il suo canale così vedete una playstation 5 come viaggia eh su svilo lì è dietro eh ragazzi bisogna stare un po' un po' schisci oh mamma mia sto sudando ragazzi è solo il secondo giro 33 trentini entravano 30 tutti e tre trombettando Marco Drums è il più forte del mondo eh eh hai visto che ti ho letto e ho completato dai compraci qualcosa assolutamente vi compro un sacco di abbracci abbracci e baci voi fate gli abbonamenti i beats e tutto quant'altro le donatazioni le donatazioni bellissime ho aperto la donazione per il canale di Marco Drums così si compra una barca non so perché ragazzi la barca però ogni volta che qualcuno frega dei soldi da qualche parte si comprono le barche eh sì eh sì guarda sono così materiale che la gara la sto facendo sullo spazio sullo space death space ragazzi gli ho dato paga con questa macchina quindi effettivamente ha ragione Loki che quella Mazda è bella punza bene quella leggendaria ma anche la calsonic eh sopra la campa la pampa rampa sotto la pampa Marco Drums scampa scampa campa di follower Marco Drums qui è un po' come la Formula 1 raga eh no 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 raga qui non si compra nulla qui si qui voi dovete comprare c'è il merchandising c'è un sacco di roba voi ragazzi volete comprare magliette cappellini tazze portacellulari borotalco voglio posso vendervi anche il borotalco ha un sacco di soldi il borotalco lo vendo il borotalco che usa Marco Drums Games scena ve lo mando con l'etichetta attaccata su con lo scotch non togliete mai lo scotch l'etichetta che vi marco per vedere la marca che c'è sotto il borotalco allora dentro sta macchina è improponibile adesso ve la faccio vedere ma anche voi bandiere co guardate dentro come si vede la sta macchina guardate dentro come si vede sta macchina raga improponibile come fanno loro a guidare sta macchina non compro niente guarda vendo barattoli di sudore di Marco Drums durante le patenti fatti dalle patenti barattoli di sudore eh non mi piacciono gli anarchici qua dentro li butto fuori subito ecco ecco dai vediamo quanti le dobbiamo buttare fuori guardate che meraviglia di macchina 7-8 ma consuma questa macchina o va a aria non era 7 anche prima raga cioè questo ha fatto 4 giri e sempre 7-e oh 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 distrazione mi sono distratto un attimo colpa di affreddo guarda oh dentro ragazzi è improponibile si si ad aria ad aria eh eh charderino oh mio dio tutte le livree fatte per nulla amico mio e tante tante altre da fare anche ma tu charderino una livrea per questa macchina qua cosa cosa faresti si infatti dalle stupidate che state scrivendo dai che siamo quasi a rettilineo ancora va talmente su di marcia di giri che legnate che da qua che legnate che da sta macchinina io vorrei anche farla da dentro raga ma è improponibile cioè non si vede nulla quando poi c'è davanti si infatti non va non va bene non va bene non va bene non va bene raga è sabato sera ci si diverte non ci si fa gli anarchici guarda qui ragazzi un po' di rispetto per chi sta rischiando la vita a 350 all'ora ciao Ryan si Ryan si Ryan è il 42 amico mio te ne sei accorto ah ah grande Ryan ti sei accorto che era il caffè 42 grandissimo eh sono difficili vero c'è 100.000 punti tutti storti Cosmo eh come faccio a mutarmi 200 all'ora ok allora sono babbo no il caffè di babbo natale è una storia che deve deve arrivare solo a novembre prima non voglio sentire di babbo natale non ho capito scusami Ryan perché stava parlando mio figlio che cosa hai scritto se puoi riscrivermelo per cortesia perché non ho neanche il tempo ho solo il tempo di pettinarmi sul dritto ah 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 marca miseria poi sono reduce di la live di venere giovedì che non farò mai più di 12 ore no perché non è andata bene ma perché per la pista le gare qua sono toste si 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 ah che vabbè si parla di babbo natale a novembre cosa si vuole di regalo poi è chiaro che arriva al 22 dicembre per i bambini cattivi e al 24 arriva per i bambini buoni dove ha solo carbone eh si Ryan questo è è tosto ma se hai questa macchina qui sinceramente la sto facendo easy eh anche se comunque ragazzi sono sono dietro eh non è che è tanto easy eh più che altro riesco 5 giri 6 va bene dai la vinco perché non devo entrare a far benzina è troppo questa qui è la ibrida eh ma che c'è che è che non mi ricordo più è l'audio o la Porsche che non mi ricordo più si mappa 6 con 0 stop esattamente Ryan è tosta no a 12 ore è veramente tosta cioè voi ridete e scherzate ma a stare sulla pista concentrato fare le curve giuste poi con l'online che era ancora di più e troppe troppe ore di fila troppe ore di fila mi ha venerdì venerdì sono stato anche abbastanza male comunque oggi ho mal di testa e cervicale quindi non no mai più però vabbè chiaramente non è che gioco poco è solo lo stacco dove sta sempre qui cioè seduto ok se non seduto non fai niente ma non poterti alzare con le mani dopo due ore esatto 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 bravi ragazzi avete capito no cioè quindi ho voluto testare ma non tanto per vedere per vedere un po' come funziona Twitch no perché chiaramente chi cacchio la fa 12 ore di fila tanto le faccio 2-3 pomeriggio e 3 alla sera sono 6 ore già normalmente quindi non è un problema giocare anche per così tanto io lo faccio cioè ma è proprio la questione di stare nello stesso posto non poterti alzare continuare a parlare rispondere alla gente che entrava è stata è stata veramente tosta poi anche l'online non è che io non voglio fare l'online giocare con voi ma l'online è tosto uno dice vabbè giochi contro il computer l'online è uguale no non è vero qui sbaglio vado contro un muro non me ne frega niente nell'online un po' ti rode no perché vuoi sempre comunque andare forte diciamo no poi c'è la gara devi stare attento ad andare addosso e tante tante altre cose no raga quindi sinceramente è stata è stata tosta è stata tosta poi tra l'altro oggi ho comprato per pc eurotrack simulator perché sono riuscito a overclockare un po' il mio portatile a farlo andare un po' di più anche se comunque con UBS non riesce comunque a stargli dietro alle immagini e ho giocato un po' eurotrack simulator col volante col pc però non essendo proprio fluidissimo perché ci vuole comunque una bestia anche per far girare un gioco di sette anni fa assurdi sti pc veramente e c'era una motivazione perché sono passato a console un po' mi ha mi fa mi fa un po' venire un mal di testa che è quello strano c'è anche si chiama proprio così quella shock fitness shock me l'aveva detto uno come si chiama sta roba qua che viene per per le immagini che viene sta specie di roba di epilestria buona comunque diventando vecchio devo anche andare a farmi vedere la vista ci vedo benissimo ma probabilmente magari un pelino di calo magari da mettere un occhialino è un occhialino comunque adesso un po' gli ho dato un po' di paga gli ho dato un po' di paga Ryan perfetta di sotto no problema no problema il problema è il cervello allora devo stare a destra o a sinistra dipende se siamo in Italia devo stare a destra se siamo a sinistra siamo in Inghilterra mi ha suonato il telefono oh guarda 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 anche giocare troppo poi quando vai in strada fai tipo la careggiata è tutta tua e non è una cosa piacevole quando poi arrivano gli altri dall'altra parte c'è una zanzara che mi sta massacrando vi dico la verità allora mancano 5 giri questa macchina non consuma nulla raga nulla fosforo 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 semplicemente per farmi ricordare tutto mia cara amica fammi un bel modifico di 100.000 euro poi vedi quando mi ricordo le cose altro che il fosforo qui a volte si dimentica allora la prima con la Mazda ragazzi è stata veramente com'è che si chiama il programma con l'americano che cantano lì The Sings oh la alla alla vedi le cazzate raga vedi che stupidaggini che mi fanno sbagliare e non sono più primo non lo so non lo so attenzione e non va bene va com'è andato va com'è andato 5 mi ha dato impossibile no 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 prestare attenzione raga ha perso eh si ragazzi però non va proprio bene non posso perdere adesso sto recuperando sto recuperando quel bagarospo si 4 dai che è lì dai che devo recuperare ragazzi gomme a metà quindi un po' è vero che tengono un po' meno ma do più di potenza perché se no non ce la faccio diamo anche 3 qui è un pezzo dritto facciamo a 3 perché dovrei prenderlo adesso ah i zai i zalle che mezzo ha non è che l'ammazzata via di prima no ah la toma eh beh alla toma raga il toma è una bestia che lei non scherza assolutamente niente orca non posso leggerla la vostra chat raga davvero non posso leggerla se no vi devo rifare tutta la gara scusate ma non entra i box niente vi devo fare l'ultimo giro a fuoco è qui eh adesso con la mappatura l'uno eccolo lo sapevo che ho tirato lungo la staccata che arrivava che la curva che la curva lì è improponibile raga oh guarda ancora porca loca questo punto qui è terribile ma non ho più le gomme sento come devo frenare tanto lui probabilmente le ha cambiate a che roba va porca raga porca raga adesso c'è quella bella tosta ok 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 guys ok guys gli diamo via gli diamo un po' di paghetta gli diamo la paga settimanale dai me lo son bruciato se non sbaglio nulla charder aveva detto prima Nello che che mappa facciamo non ha più risposto Nello quindi non saprei dirti che mappa vuol fare charder online e non ha neanche scritto l'occhi se viene dentro anche lui a fare un bello line ragazzi dai che andiamo a vincere è dietro ma lo freghiamo mamma mia ragazzi che roba che roba che gara che tensione ha la 919 919 ibrida quindi è la Porsche ragazzi grazie Giulia mio dio davvero Giulia che roba paga pochissimo ste gare però caspita allora l'occhio è finito charder non si fa più vivo non so che cosa sta facendo se sta facendo l'ivrea se sta giocando se sta facendo dalla lobby se vuole farla non so niente Nello ha chiesto che pista siamo rimasti così un po' grande Willis gattini adesso puoi mettere tutti i gattini che vuoi Willis guarda che figata non avevo neanche notato che siamo partiti un po' col buio col bugietto oh quante macchine tutte uguali qui ci sono milioni di euro milioni di euro tra l'altro io ho una Porsche fatta da DGM Mori che non so se voi lo sapete ragazzi ma sono i torni e che tracciato oh ecco che è arrivato la DGM Mori è la vecchia Mori Seifi che era una ditta ed è una ditta che fa i migliori torni a controllo numerico merci prese centri di lavoro a controllo numerico costano un botto e poi è stata assorbita o comunque è stata integrata nella DGM Mori DMG Mori scrivata DMG Okuma Okuma Matata dice Willis penso che voglia dire Okuma Matata o una pista Okuma c'è una pista che si chiama Okuma non so non saprei ragazzi no no proprio no io dovrei riuscire a capire che cos'è quelle lucine fighissime che ci sono di fianco a ste macchine verdi gialle e rosse perché qua non la vedo di solito ci sono infatti mi chiedo sempre che cosa servono quelle lucine vabbè bella 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 allora mamma mia ci sono i zanzare che mi fanno ammazzare Okuma è uno dei concorrenti che fanno torni ah gli Okuma ah si si scusa scusa Willis gli Okuma li conosco pensavo che stavi parlando della si si crea Sharder che stai parlando della pista Okuma li conosco io lavoro con Biglia che sono italiani e Doosan lavoro con quelli io e se il mio amico ce ne ha un po' tutti c'è anche quelli della ah grande 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 io sono ancora un operaio un tornitore precisamente tornitore con la qualifica di tornitore sono tornitore faccio i pezzi degli aerei dei treni delle navi dei quando tutti erano a casa per il covid io andavo a lavorare facevo i raccordi per gli ospedali per tutti i vari sistemi di ossigenazione presenti quei tubo quelle silos di ossigeno liquido che ci sono fuori dagli ospedali tutti congelati ecco io faccio anche quei lavori ragazzi io vorrei comprare questa macchina questa macchina qui questa gt40 mark ora assemblo quello che produco ah ok perfetto perfetto grande 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 willis grande mi si è addormentato a dove sono lord dorme lord dorme novità novità che bella novità che lord dorme hai fatto tipo 50 video su tiktok che il mitico lord dorme io devo farlo sport ragazzi perché una volta fatta la patente è sempre mia per sto video è sempre mia per sto video toyota gazu butta acqua fresca immobile che hai in casa ah che figata che figata che figata questa che cos'è che sarebbe oh signor penso che non si possa no non so che cosa succede vabbè non posso fare sta sta gtk gazu ciao aah ma chi le controllo numerico ma per il legno ah si 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 fico 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 okuma le conosco conosco la marca poi c'era un'altra ciao ciao kevin marco l'ho pubblicato un replay della gara che ho fatto il torneo vai ora spacca devo spaccare i mobili willy scusa fammi capire ah 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 stava parlando di mobili col controllo numerico e poi mi dice vai spacca occhio che è bella bella questa macchina che ha fatto il costa eh dai il costa è bravo che è il costa è bravo che è il costantino è di reggio Emilia il costa il mio amico si si così te li vendo esatto esatto diciamo che a livello spese siamo già a posto su un mese ah Buzz Lightyear mi piace anche questa mi piace anche quella di Buzz diciamo che quelle mie preferite sono quelle di del mitico del mitico guarda che bellina questa qui Sharder dell'amico Costa anche lui ha il primo si si anche lui ha usa bene i colori carina carina anche questa dell'amico costantino certamente quelle nostre sono nostre ma red vediamo red ma che bellina red bellina anche quella di red vediamo un attimo mi piace vedere anche le livree degli altri ragazzi Tokyo Tyres Hancock un sacco di Michelin montati un po' troppi adesivi di gomme i cerchi OZ ci stanno Goodyear cioè adesso tutti i marchi di gomme vediamo un pezzettino perché adesso dobbiamo andare online eh Loki Sharder tu dibi quando hai fatto la cosa hai risolto poi il fatto di Aerotrack no 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 non ho neanche visto Sol mi ha talmente mandato un po' in pappa uè amore mio patata ciao Carla come stai come stai amore ciao amore mio ciao amore poco sono 39 minuti si no ma guardiamo un tocco ah è quella là quella là si 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 l'ho fatta anche io oggi domani arrivo amore mio si 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 mi manchi 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 anche i ragazzi Carlo devi venire a fare una garetta magari domani no ma assolutamente alla fine in settimana devi farti una garetta con Sharder eh amore mio devi riprendere devi riprendere esatto Sharder vedi se per caso fai una piccola live arrivo al ritorno avverti eh che se sono in live io e tu sei stai tornando veniamo a vederti amo Bragali TV ragazzi seguite Bragali TV ah è creata Sharder ok ah no qui era già la fine vediamo l'ultimo giro di Loki tanto perché carina carina la Lugo Boss questa è la 900 la Mazda quella vecchia eh io anche queste sono le macchine inguidabili dall'interno raga arrivo 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 Sharder arrivo subito dovrebbe arrivare anche Loki e dovrebbe arrivare anche ciao grande Carla grande amore mio dovrebbe arrivare anche oh ragazzi non c'ho più memoria ragazzi anche Nello in teoria ecco il cascotto di Marco Drenard grande Loki rimango oh che bello che bello che bello amore mio facciamo un po' di online eh Tata Loki beh beh assolutamente beh non farti fuori neanche tutti i giga amore mio ma bisognerebbe vedere quelle giga illimitati 100 giga finiscono in un attimo bisogna fare i giga illimitati bella 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 Loki bella bella vediamo il taglio traguardo e andiamo subito online l'amico Loki vittoria adesso c'è l'ultimo pezzo che io mi dimenticavo sempre no 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 vittoria grande Loki grande Loki grande grande andiamo subito online bravo bravo Loki bella garetta bella garettina guardate 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 questo che bello forte 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 c'è un sacco di gente che fa roba fighissima andiamo subito online amici lobby 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 andiamo online andiamo online amici miei GR3O2 dipende c'è 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 anche c'è Red Bull Ring Red Bull Ring sembrava un musical ragazzi non vanno a sega polifoni metti a posto sto schifo di online tanto sono andato a vedere il medico a zuvituzzo una scappata ok sessione scaduta oh oh Sharderino Vediamo Sharder Con la Nissan Nismo Quindi ragazzi GR2 Vediamo Sharderino Allora Stiamo vedendo Sharder Ah Nello Eccolo qua Ok Intanto che vediamo un attimo Nello Saluto anche il mitico Lucas Anche lui live Il mitico Lucas Allora bello Nello Quindi GR1 e GR2 Raga Ah non c'è Non c'è Non c'è Loki Ecco qua Loki Guarda un po' chi esce dal box Eccolo Eccolo Loki Loki 4708 Arriva e fa il botto Arriva e fa un po' di fumello Che bello Dai Allora GR2 Raga No ho sbagliato Allora GR2 Dov'è la onda Dov'è la onda? Denuncia da schiamarsi Il cantucchiare O il guardare gli altri ragazzi Allora dovrebbe essere questa Se non sbaglio Dovrebbe essere lei Assolutamente sì Cantucchiare Il cantucchiare Lord dice che è da denuncia La Giulia Non posso più cantucchiare Volevo cantucchiare Ma Lord Ah 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 Quale Nissan Quale Nissan Amico Miratua Adesso devo guardarla Non ci ho fatto caso Comunque era bella Era grigia Bella bella Ah ok ok Allora se ritira la denuncia Lordettino Ritira il denuncino Così posso canticchiare Bella 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 Sharder Il bello che Le livree le fanno Belle in tanti Ma le tue sono Molto particolari Sono molto particolari Sei molto bravo E la tua impronta Quindi Mentre prima vedevi Il mio amico Costantino Le faceva tante Tutte diverse Una dall'altra In base In base a come Tira il vento Ah Lucas Ha 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 you Hai visto che sono dentro Sono qui eh Tu sei qui Lucas Ti sento Ah ha ha lucas è entrato primo raga e sono entrato adesso a trovarlo insieme a grande zubituzzo e ce l'ho qua lucas ti sento lucas charberry l'ha fatto 1.21 tanto ridi 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 1.21 l'ha fatto a lucas grande ti ho messo qui sul cellulare di fianco all'orecchio lucas grandissimo il mio amico lucas di fianco al mio orecchio che se urla misi spacca il tempo ragazzi qui ridiamo e scherziamo intanto loki si è fatto 1.20 come ha fatto loki a farlo 1.20 che macchina è usata raga mamma mia avete il turbo c'è il turbo raga questi ragazzi eh porca miseria noi vecchietti che cerchiamo di correre le nostre gare tranquilli finirle e portare a casa lo stipendio invece i ragazzi devono sempre dimostrare di essere i più bravi guardate che roba 1.20 addirittura 1.20 con una gr2 tanta roba direi oh grazie giulia gentilissima dovevi sentirmi suonare la batteria l'aero veramente bravo giulia magari prima o poi ricomincerò ragazzi e con la storia del del always live magari farò anche cose incredibili perchè mi parte via? perchè mi parte via? perchè mi parte via? eh anch'io amica mia però bisogna avere troppie cose bisogna avere una stanza sonorizzata che ormai è diventata stanza di mio figlio bisogna avere tempo per suonare bisogna avere tanto spazio bisogna avere tante tante cose charderino ha fatto un bel record si stanno tirando le pappine lì davanti e intanto Marco è ultimo ultimo amonin vicciotti grazie a tutti madonna 1.18 ragazzi che avete fatto ragazzi c'è manco a tagliare così da sgrizzer credo si possa fare 1.18 eh cioè se non freno charder quanti giri hai fatto? eh non riesco a migliorarvi raga madonna 1.23 raga 8 giri col carburante col carburante fammi finire sto giro poi avvia per me penso che anche per Nello vada bene non riesco a starvi dietro raga stasera siete troppo veloci ma the show must go on ragazzi the show must go on senza cosa amico mio ah senza carburante orca allora quindi ho perso va bene dai allora ragazzi non c'è speranze allora aspetta prima di partire che almeno metto le gomme morbide e tra l'altro non so neanche se l'ho messo su o no madonna 1.22 dai niente 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 nulla nulla da fare nulla da fare anzi facciamo una cosa perché poi dopo parte la gara ah cioè io della n6 x ma no ma questa è quella di bragari porca miseria aspetta aspetta prima di partire questa è quella di mia moglie è questa la mia vabbè fa niente dai allora morbide morbide quindi se vuoi quando vuoi partire se vuoi farmi fare un giro avevo le gomme schifose mi sono Anna come fastidioso scusa charter è il mio giro buono scusa charter non ti va mai bene niente non so cosa dirti sinceramente chi taglia le curve non so più cosa dirti l'altra volta ti sono venuti addosso e poi chi taglia le curve come si fa a tagliare le curve spiegamelo che le taglio anch'io sto facendo tempi assurdi e non davvero non chi taglia le curve dove guarda guarda come mi va via con le gomme con le gomme non lo so ragazzi sono gare ma prendetele per quello che sono ridi e scherza nello c'è porca miseria davvero c'è sempre un problema quando corri tu cioè non voglio insegnare niente a nessuno ma cazzo ma che palle oh davvero ma dove si taglia perché taglia un po' sul cordolo cioè quindi se io qua sbaglio e vado qui per dire ho tagliato non lo so non mi da non mi da il coso nello non riesco a capire sinceramente davvero a volte mi passa la voglia di giocare online vi giuro mi passa la voglia voglio giocare solo offline già si fa fatica a giocare caspita è come andare su sul vetro questa macchina non lo riesco a cordolo seconda cordolo non sbattere basta non ce la faccio più iniziamo 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 raga mamma mia che caldo per me si può avviare si 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 vai 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 no no è terribile non riesco a capire più perché con sta macchina che era la mia top cioè capito non riesco a capire perché la mia macchina che era la top è diventata un cesso che non riesco a tenere strada cioè lo riesco a capire se con le gomme morbide o devo fare devo mettere un settaggio ma se poi giochiamo senza settaggi poi mi ritrovo così con questa macchina che che se ne va dove vuole andare lei invece io con la n6 mi sono sempre trovato benissimo proprio sono stanco ragazzi vi dico la verità grande lord mi scuso anch'io per qualcosa che non so oh porca scusa scusa non ti ho visto l'occhio che cavolata non riesco a tenere la strada non riesco a tenere la strada sta macchina va troppo va troppo poi con l'online che mi fa vedere Loki che sculetta non è proprio tanto facile prendere anche le distanze cioè non riesco a capire davvero perché non sistemano questo fattore uno può andare a giocare online con uno che mi va a destra e a sinistra così come sta facendo per dire Loki ragazzi cioè non è fattibile non puoi andare lì proprio preciso scusa Loki perché hai frenato così tanto amico scusa cioè ma mi freni così tanto in in curva dai Loki vieni muoiti Loki vai perché hai frenato così tanto Loki devi spiegarmelo poi perché hai frenato così tanto ma hai visto come ha frenato sarà l'online sicuro non è possibile che ha frenato così tanto in quella curva lì non è fattibile proprio e sicuramente adesso me lo incuro ancora perché guarda guarda cioè è possibile che lui ha frenato così tanto e io non ho frenato non è possibile è l'online che non fa vedere le cose giuste per forza eh ma è una questione diversa vedi qua tipo adesso guarda come hai frenato cioè no no sbagliato sbaglia sempre chi ti viene nel curo quindi scusa infatti sono stato aspettarti però guarda non so se se adesso riesci a vederlo vabbè tu come fai a vederla live però hai proprio frenato ma in una maniera anomala in quella curva vedi? vedi come freni? in maniera anomala? dai è l'online cioè ma poi davvero ragazzi è una cosa incredibile che non riesco a capire perché queste gomme non mi tengono va 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 come scivola sì sì davvero lord incredibile anche secondo me è una questione dell'online raga perché anche con file gli altri è difficile che ti dice che è dietro nell'angolino e tu non lo vedi perché va tutto storto capito? qui si frena appena appena si butta in terza poi si dà dentro poi chi va un po' più veloce chi va un po' meno ma se si ha le macchine più o meno simili è questo che bisogna fare non è che si può inventarsi il mondo sulle piste poi c'è la macchina che tiene di più e quella che tiene magari un po' meno ma cioè capito ho fatto anche il record della pista non è che non so andare su sta pista e non sto tagliando niente però se l'online mi fa vedere una macchina che va tutta storta e che mi frena a metà invece poi magari era lì normale e me la incuro perché solo è una questione del puro online che non va tanto bene infatti tanti si sono spostati su Gran Turismo Sport ragazzi e io non riesco a capire perché Polifoni lo mette a posto questa problematica prima che si svuotino i server sinceramente dovrebbero sistemarla subito invece delle stupidate di togliere la Tomahawk per farmare o quelle cose lì no? si butta in terza si scala un po' si parzializza e via du gas si scala un pelino massimo butti giù in terza di gas pieno di gas cordolo cordolo si butta giù una marcia si butta giù un'altra qui è tutto è tutto in pista raga eccolo la Shard andiamo passarlo sicuramente no vediamo se riusciamo a a prenderlo ciao amici amiche di Twitch grandissimi grandissime ben arrivati sul canale di Marco Drums sabato sera un po' di macchine e online insieme agli amici c'è la ciabatta che scivola c'è la ciabatta se solo avevamo qualche giro in più facile che lo beccavo sharder è la in fondo lo vedete sta facendo la curva adesso ma sì ma anch'io sono andato addosso a Loki, Juli e quando abbiamo giocato domenica no quando era giovedì del coso anche Phil oppure Pelè o l'altro ragazzo mi veniva addosso ma secondo me non è che uno ti viene addosso perché non siamo nell'online che la prima curva ti viene addosso apposta probabilmente sono piccoli ritardi dell'online che non va bene sinceramente e tu vai addosso la gente per quello, capito? anche lì Phil che diceva che ce l'avevo dietro e cazzarola a parte che l'online non mi diceva nulla poi io capisco quello che dice Phil ma se tu mi stai dietro e tu sei dietro non è che io devo guardare quelli che stanno dietro dove sono io faccio la mia gara se tu sei dietro devi stare attento tu grande è un errore del ritardo assolutamente assolutamente da qui 10 secondi sono arrivato a 7 bravo sharder bravo sharder grande Loki bella bella gara bella gara bella gara bella 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 mi è piaciuta mi è piaciuta un sacco raga adesso dobbiamo aspettare 2 minuti e 34 che arriva Loki perché mi sembra di averlo visto in giro a Bombazza 17 euro per un ora di gioco ragazzi lo faccio Solo perché siete miei amici Perché adesso avrei avuto centomila Milioni di euro Allora ragazzi è stata bella Shardere Loki Vado Un attimino a fare Un po' di offline ragazzi Scusatemi ma Almeno facciamo il caffè Io mi sto rilassando Dopo venti notti di torneo settimanale E' vero è vero Loki Ma era oggi O non ricordo nulla Quando è che dovevi fare quella roba Loki che mi dicevi Di drift Era oggi? No domani Domani Bella bella Sharder Sai che a me piace sempre Fare le garozze con te Ah questa era quella che abbiamo fatto oggi raga Vediamo con questa macchina com'è Quella che ho fatto con la BMW E con la Che tra l'altro Andrea Poi è andato a fare la gara Ma non è più tornato Ah Bravo Ah l'altro giorno era Scusa Figuras Grande 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 L'occhi Il nostro Mitico Driftatore L'occhi ragazzi Fa parte del team Di Marco Drums Fa parte del suo team Viene a correre In derapata per Marco Drums Grandissimo L'occhi Bravissimo Bravissimo Dopo Sharder ti scrivo una cosa su Whatsapp Ah perché è uscito questo qua Cioè E anche qua Cioè vedi Giulie Cioè frenano tutti all'ultimo Io ho Ho i riflessi di un bradipo Ragazzi Non potete frenarvi in un punto dove Non dovete frenare Perché Non ci sto dentro Mi vengo addosso Cioè Capito Già uno sa Allora io sono già qua Se tu aspetti un attimo Che finisco questa La faccio volentieri Sharder Su un'altra pista però Sai dove possiamo farla Sharder Se ti va Aspetta un attimo Che tanto sono dieci giri Non dura tantissimo qua Dovremmo farla A Trail Mountain Titorale Contrario però Sharder Al contrario È tutta diversa Amico mio Questa macchina è una bestia Però non so se qua È così bestia Tutte le gare con questa tipologia di auto Ragazzi E ragazze Sono belle toste Sono belle toste Perché Sono veloci Arriva subito Le curve Bisogna prestare tantissima attenzione Come vedete poi bisogna C'è anche il fiatone Tre piste questi qua Andiamo a fare qualcosa Anche di particolare Perché la penalità Cos'è che ho tagliato Dai aspettate un attimo Che finisco Quindi rilassatevi un attimo E poi facciamo Tre montagne al contrario Tanto che ce ne frega Ragazzi Noi giochiamo per Per divertirci Mica per Caspita Ma dov'è l'altro Io spero raga Che vanno dentro A far benzina Questi qua Perché C'è anche una zanzara Crando Comunque amici Vi scuso Da parte Di tutti Se Quando venite a far le gare C'è qualche Scorrettezza O roba del genere Sono io il primo Che Dovrebbe Far tutto correttamente Ma sono gare Sono gare E quando venite a farle Sul canale di Marco Drums Ci si diverte Quindi Se per caso Non è il vostro Mondo Anche qualche Sporterata Per sbaglio Perché nessuno Non lo fa apposta O qualcosa che non vi va bene Non c'è problema Ragazzi Deve guardarci Vediamo scherziamo Senza poi Fare l'online Insieme E qui comunque Non li becco Quindi che cavolo Di macchina Devo prendere Per beccarmeli Cioè Vedi questo Ma come cavolo fa A frenare così tanto Io non riesco A frenare così tanto Quindi Ti devo per forza Venire addosso Mi sei stato davanti Per un giro intero Non ti prendevo Poi quando ti sono vicino Mi freni In modo anomalo Che io non riesco Proprio a frenare Cioè io ho freno Tutto freno tirato Ciao Mauri Ciao Mauri Okero È arrivato Maurizio Ciao La Giulia Senta sempre Sta canzone Okero Mi è tratta Nel cervello Ciao Mauri Come stai Tutto bene Lavoro Tutti i tuoi TikTok Sono fatti Con quella canzone Lì Di Giulia Grande Maurizio Viga mio Allora Maurizio Ho provato Di tutto e di più Sono riuscito A overclockare Un po' il pc Va un filino meglio Ma comunque Non Allora Per fare una live Con il mitico Morris Così Senza tante Eh lo so Amico Tu sei sempre al lavoro Amico Dedito al lavoro Ciao lord Te ne vai già a letto Alle 11 di sera Il sabato E ha fatto di quelle pizze Fantastiche Poi me le manda Anche il mio amico Maurizio E mi fa diventare Matto Perché io non ce le ho Quelle pizze lì E io le mando Quelle che mangio Dal cinese E lui ride Però c'è poco Da ridere Perché io le mangio Porca miseria Eh sì Il bello Una volta Le l'ho mandato Se fosse a ridere Ah dal cinese Eh quello c'è Di fianco Dove lavoro io Ragazzi Ma sta piovendo? No raga Sta piovendo Cacchio Cacchio Maurizio Davvero Davvero Tu e quelle Meravigliose Pizze panino Mamma mia Mamma mia Maurizio Allora faccio io Il capo Il capo Sala E tutte le pizze Che escono Devo provarle un tocco Per vedere se La qualità è ottima Mi sa che ti conviene Non aprire Apriamo già in perdita Amico mio Controllo qualità Ragazzi Sta piovendo in gara Siamo al sesto giro Non sta piovendo Sta diluviando Non tenere gomme Chi lo sapeva Che si metteva A piovere Chiacchio Ma devo mettere Le intermedie Non so neanche Se ho le gomme Intermedie Per questa macchina Devevo spedere 50.000 euro Per mettere le gomme Vedrai Per fare una gara Non tiene Che va al primo Dove se n'è andato Va al primo Dove se n'è andato Dai Sta bugati Questa qua Porca Porca loca Sto scemo Neat Dai Eh io No No Raga Ho buttato via La gara No no Basta Buttata via La gara No 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 Non tiene Non tiene Raga No no Basta Guarda E raga E raga Allora Andiamo a cambiare A comprare Le gomme Andiamo A comprare Le gomme Per l'Audi Per la Porsche 916 Ibrida Del 2016 Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Amici miei Che dobbiamo fare 50.000 Per Ah no Stavo uscendo dal gioco Per fare un solo biglietto Ragazzi E' andata Questa qui è andata Questa qui è andata Suzuki Morbide Bravissimo Morbide Poi andiamo col bagnato pesante Quindi Io la benza Non la devo fare Cambio gomme Basta Al settimo giro Quando mi si mette a piovere Raga Devo cambiare Allora Tcs Lo possiamo tenere sul 2 Consumo gomme Dai levati Porca Ma questi frenano In maniera anomala Gli era già andato tutto il muso Avevo già perso il muso Raga Va come ti Va come Porca Domani ci facciamo un po' di formula 1 Amici miei Formula 1 Domani pomeriggio Devo vedere l'orario Perché forse Carlo arriva verso le 5 Le 6 Quindi anticipo Magari faccio dalle 2 Alle 4 Alle 5 Poi quando arriva Devo Fare le coccoline Porca Miseria Non è andata tanto bene L'ultima curva Devo dire Proprio per niente Caspita Cosa vi girano le scatole Aver buttato via La gara di prima Raga La gara di prima La gara di prima Comunque non me lo aspettavo Che si metteva a piovere Vi dico la verità Bello tosto Sti cose del caffè Dovrebbero pagare di più Quello si perché E' bella tosta Giulia Perché sinceramente Vanno forte Cioè vedi che si fa fatica Proprio a prenderli Quel punto è balordo Perché sembra che allarga Invece poi l'ultimo pezzo stringe Stringe di brutto la curva Allora uno sembra che allarga Puoi prendere la scialla E invece non è vero Vero Sharder? Dopo quando finisco Ti mando un messaggio In privato Su Whatsappi Poi se sei a letto Non ci sei Lo ascolti domani Senza problema Comunque vengono addosso Anche loro Vedi questo ha frenato Giusto però Non in maniera anomala Anche questo ha frenato giusto Si riesce a dargli dietro Invece prima mi frenava proprio In maniera anomala Ma vedi che va sull'erba Infatti c'era una volta Una gara in Formula 1 Che c'era Se non mi ricordo male Verstappen E non so chi Che ha frenato in modo anomalo E quello dietro Gli è andato addosso Era Hamilton Suo compagno di Non ricordo più Quali erano gli episodi Però Perché sono punti Che si tira Si arriva al cartello Del 100 Si frena Quindi poi Una macchina frena di più Rispetto a un'altra Però Le tempistiche sono quelle Quindi Se uno poi mi frena Un po' prima Anche per quelli dietro È dura Con le gomme morbide Tanta roba in più Eccolo là Dov'è Comincia già a piovere Al quarto giro Ma che è Ma dai Ma era Era al settimo Prima Oh raga Ci sta fregando Sto gioco Era al settimo Giro Che pioveva È vero o no Giulie Al settimo Era A me o al quarto Ha piovuto Eh C'è Vabbè Grazie gioco Ma andiamo a cambiare le gomme Non è che Ci stai facendo Un tortone Però Oh signor Oh 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 Non frena più Eh Te pareva che vi buttava qua Vai apri Allora da bagnato Non rifornire Questi stai pazzi Stanno andando avanti Con gomme slick Dai dai Via 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 Ma tre secondi Cosa Perché Oh ho messo le gomme da bagnato Eh Stai dentro Che qui andrà a finire Che è una gara Come quella Dell'ultima patente Oh Mi farà dannare Che qui andrà Quello è andato fuori Gara impegnativa Ragazzi Difficile Quarto giro di acqua Nessuno che entra in box Bene Ciao Giulio Buonanotte Grazie amica mia A te Cioè dai C'ho sulle gomme da bagnato Sono sulle gomme da bagnato Ragazzi Non frena con le gomme da bagnato Come cazzo è Questa sarà una gara Davvero ostica per me Non devo neanche far benzina Non riesco ad andare forte Perché con le gomme da bagnato Mi va fuori Guardate che roba Non vanno dentro i box Non vanno dentro i box Ma C'è dai sai serio in piena traiettoria mi vai a 50 all'ora vabbè a cagare già non tiene piove tantissimo raga dai ma sono fermi a si sono incartellati per fare la menza perché? bandiera gialla bandiera gialla ignorata come facevo io sono passati ciccio avete visto la bandiera gialla dove me l'ha data? è ridicola sta cosa quello la si è girato sulla pista e mi dà la penalità a me questo replay devo salvarlo raga questa pista è è stata tosta grazie a tutti eh lo so lo so ingiusta uno due tre un po' un po' un po' Ciao amici e amiche di Twitch Benvenuti ragazzi ragazze Sono partito col sole con le gomme Sleek Morbide Al quarto giro è cominciato ad arrivare un nuvolone Pazzesco Acqua catinelle Sulla pista Adesso si sembra che si sia un po' Tranquillizzata La situazione Infatti mi sta consumando le gomme In maniera impressionante TCS a manetta perché se no Andavamo per campi Infatti non tiene una sega Gomme bagnato Sono dietro Non è che posso star tanto a gruggiolare La macchina è la Porsche 9 e 16 Se non sbaglio Ibrida Voglio arrivare a comprare la GT Mark 4 O Mac 1 Boh non mi ricordo più Che sta vendendo nel Negozio di macchine Mamma mia Incredibile E' dietro E' dietro 5 e 9 E' dietro Ultimo giro Se non entro a farbenza Non posso assolutamente sbagliare La pista si è asciugata Quindi le mie gomme da bagnato Non sono più utili a nulla Solo a consumarsi Forse Forse Leo amore C'è dell'acqua frizzante nel frigo Romo? Porti la bottiglia Tato Per piacere? Sì Doveva esserci nel frigo Sira per te Eh sì Grazie amore mio Questa mi ha fatto sudare Leo Questa gara Madonna ragazzi Che gara Di tutto è successo E mi sta anche recuperando Il bello è Perché è dietro Eh sì Ha fatto la curva adesso E' dietro Raga Andiamo A Vincere Dopo una gara dura Andiamo a vincere Sì Sì Che miseria Sì Madonna Sì 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 Solo per le gomme O spero 175.000 Per comprare Le gomme Per questo biglietto Oh raga Aspettate un attimo Vediamo un po' di replay Anche perché è mezzanotte È quasi mezzanotte Che partire E geht Oh raga Oh raga Beh vediamo anche da dentro perché sinceramente a far la gara da dentro è impossibile vediamo un peccettino vista da dentro come la gara qui era il primo pezzo raga la porsche questa è la gara che ho finito ragazzi vista da dentro da dentro non riesco perché la visibilità è proprio quasi nulla qua ho tagliato un po' che mi sono preso pure la penalità e ci stava tutta cos'è sta scatola? qua sta scatola ah si è quell'altro si si bello questi visuali questa è quella che uso per correre e questa secondo me è la più mitica di tutte gli ho toccato per appena la punta la porsche dg a memoria raga che macchina che bestia ibrida un po' un po' qualche qualche fiancata l'ho portata via eh andiamo a vedere più avanti ma no voglio vedere il marco al quarto giro raga piove eccolo 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 vediamo da dentro a che mi zal eccolo ok 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 eh si e qui era tanta roba eh, chi mi sa che appena è iniziato a piovere e non avevo su un tono le gomme incrocio ah la toma come si sbatte la toma dove va il peugeot non si vede nulla bella visibilità di questa macchina è tanta eh questa è l'Alpine questa è come la mia ma dovrebbe essere quella del 2021 si, la Gazzo Racing quella che devo ancora comprare questa invece è come la mia, è ibrida questa invece è la dentro, non è stata questa è l'Audi questa è quella che ho appena comprato ma cosa è successo? solo lui che c'era incartellato incartellato wow come sgasano questa cosa è che è? ah questa è la Audi Ugiti VGT non si vede nulla in queste macchine raga qua non si vede neanche la parte destra devi andare così per istinto questa non si vede neanche la parte almeno questa è le poche qua capelo eh wow bella lì raga aspetta che volevo vedere che cosa è successo a un certo punto e vince e vince e vince la gara incredibile ok allora ragazzi facciamo madonna questa gt3 all'edito è stato il 14 suzuka non l'ho mai fatta orca miseria io credo che sarà dura durissima 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 suzuka cos'è questa qua la onda ciao amici amiche di twitch grandissimi grandissimi com'è stato raga no goddio ci ho buttato sul bronzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Tutto sul cordolo Ecco qua No 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 Non posso farla pieno Questa è la Honda NSX la conosco Ci abbiamo ricorso anche prima Non posso farla vabbè niente dai 34 andiamo avanti incredibile a a a a a a a a no peccato peccato era forte era forte era forte era forte era forte o scivola 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 poi un po troppo forte forse quinta piena o così mi piace di più questo mi piace di più l'ultima prova è andata un po' è andata un po' fuori no l'ho presa un po' troppo velocina eeeh in caspita è scivolata è scivolata un pelino raga pochino 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 spry nooo allora la prima l'ho fatta giusta la seconda ho esagerato ho esagerato ho esagerato non bisogna esagerare esagerare oh la 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 pava la rava e la jubaba un po' un po' esageratino eh un po' esageratino spry ragazzi io devo fare anche l'ultima patente ed è veramente qualcosa di tosto eh forse forse vabbè quanto ho fatto il primo tanta roba ok vediamo un attimo alla parte di qua vediamo vediamo se riusciamo a farlo eh raga ok ok oh non ci credo pensavo che era oro e invece era un calesse così cacchio ventun millesimi cacchio non ci credo ok così ci capiamo un po' meglio che figata la prima poi la vediamo adesso c'è la seconda parte quella ok un pelino offre un po più velocina per difendere un po meno ciao ragazzi e ragazze benvenuti amici di twitch un po di prove sul circuito no beh mi sono migliorato però ancora non ci siamo non ci siamo così ci siamo così ci siamo così ci siamo mi piace sempre vedere quando faccio il loro rivedere le pre raga bella bella è qui 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 non si può fare certe cose 23 642 porca la misura vieni oggi sbam raga è un attimo è un attimo è un attimo sbattere onda nsx prove sul circuito oros oros prime come come apre questo motorino raga poi tra l'altro l'ho fatta un po lunghetta quindi si potrebbe anche anche rifare la rifacciamo magari una volta vediamo un secondo possiamo rifarla magari un'altra volta ancora e basta perché poi voglio concluderla e andare a letto ragazzi concludiamo questa giornata di gaming e di live beh niente dai pensavo andiamoce andiamocene che mi va bene così giro singolo è tutto adesso però devo ricordarmi tutti i pezzi primo pezzo faccio un po fatica a farlo infatti non 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 l'ho fatto oro faccio un po' a per pensare ci e ah usi usi e usi Grazie a tutti. Ciao vice-mediettrice, benvenuti ragazzi e ragazze. Ciao amico mio, ciao Loki, grazie. Domani pomeriggio alle 2 porto... Madonna... Vabbè, domani pomeriggio porto Formula 1, domani sarà il Gran Turismo. Quindi ci vediamo domani. Poi se per caso succede qualcosa che non vi vedete online, ragazzi sapete che è arrivata mia moglie, quindi vuol dire che salto la live. In teoria la programmazione è questa, poi dopo ci vediamo. Ciao Loki, buonanotte, grazie di essere stato con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci facciamo andare bene 52.4, la rifacciamo, la rifammo una volta raga, poi visto che siamo a mezzanotte rotti, ci vediamo domani pomeriggio con Formula 1 2021 e poi ciao Sharder, grazie, grazie amica mia. Ci vediamo con Formula 1, poi se domani non ci sono Sharder sai perché è arrivata Carla, quindi non stremo. Ho preso troppo a cordolo. Aaaaaah. 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 Aaaah. Aaaaaah. 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 Porca, ho vasto ad un filino raga, un filino! L'ho fatto bene il primo pezzo Il cordolino che l'ho sempre preso bene E anche un po' di stanchezza Devo dire la verità Faccio l'ultima come viene viene Prendiamo i soldi ci vediamo domani Ore 2 formula 1 Poi al day 1 ci sarà anche il formula 1 2022 sul canale di Marco Transgames channel e domani sera se tutto va bene Porto ancora il Gran Turismo raga Ci vediamo domani sera Ore 21 Grazie a tutti ciao amici amiche di twitch benvenuti ragazzi se vi piace il mio canale iscrivetevi ragazza che diamo 5,70 porca miseria qui che è qui che rallento tendo a farla troppo dovrei finire un po di più e prima ho fatto a oro però il pezzo è quindi magari non la so fare vabbè 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 dai vediamoci giro insieme e poi ci salutiamo vediamo il giro in girello della coppa di alluminio coppa alluminio 1,52,4 ho fatto quasi tutto oro tranne il primo pezzo e probabilmente sarà il primo pezzo raga che mi penalizza qui è tutto un destra sì una danza è questa questo punto della pista è una danza io ragazzi vi saluto buonanotte buonanotte a tutti ci vediamo domani ore 2 formula 1 2021 poi vi aspetto a fine mese col formula 1 2022 day one la porto subito 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 day one edition e domani sera ore 21 gran turismo 7 se per caso ricollegate non ci sono è perché non ci sono C'era normalmente la programmazione questa. E vai, e vai, e vai, e si va al traguardo. Ciao amici, buonanotte a tutti, buonanotte da Marco Drums Games Channel, è tutto, ci vediamo domani, statemi bene. 40.000, 200.000 e basta, perché da un milione solo quando si fa. Ciao a tutti, ciao a tutti, a domani, ciao, ciao, ciao. Aspetta, vediamo quanto mi dà, qui che magari riusciamo a comprare complimenti, a comprare tutti i menu, passare a prenderlo, oh, bigliettino, bigliettino, dai facciamo bigliettino prima di andare a letto, bigliettino a 6, con la Hyundai ce l'ho già, ecco. 500.000, vabbè, sempre meglio di nulla. Sempre meglio di nulla, va bene ragazzi, buonanotte a tutti.